è stato un grande Napoli Osordato innamorato di tutto lo stadio grande sciarpata, grande entusiasmo qui a Napoli sono tornati gli anni 80 sentiamolo un attimo quasi non ci crede Cavani Napoli batte Juventus 3 a 0 è una partita decisiva chi vince va secondo da solo in classifica dallo stadio San Paolo di Napoli Napoli Juventus ancora Napoli che prova con Maggio tra persone verso Cavani Edinson Cavani e il Matador 1 a 0 Rosseni si è fatto vedere prova a muovere la difesa di nuovo il servizio per Lavezzi che aveva battuto il calcio d'angolo Lavezzi si coordina a destra Aquilani torna spizza per Amori vuole girarsi Amori si libera Amori con il sinistro De Santis in calcio d'angolo straparata di De Santis calcio d'angolo per la Juve ancora De Santis nel mucchio Luca Tony no annullato Tony carica il Borgieri evidentemente campagnolo l'apertura ancora per Dossena ma un po' fatica via a sinistra da Juventus arriva tra persone di Dossena Cavani e il Matador 2 a 0 il pallone centrale a Mauri poi il pallone fuori per Mattis lo rimette di nuovo dentro Mauri De Santis la toglie dalla porta ancora Lavezzi con la sua velocità il top operanzi in posizione regolare parte opposta Edinson Comodi tripletta 3 a 0 va in porta Nel Piero all'alta non di molto sulla traversa va su Nel Piero ma la verso Tony non arriva Chiellini il pallone attraversa l'area di porta 3 a 0 per il Napoli contro la Juventus Cavani 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 ριot очь